In linea con le iniziative e gli incontri della non aggiornata della salvaguardia del creato, il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, ha accolto nella sede del Palazzo Arcivescovile il capo del Corpo Forestale dello Stato, l'ingegner Cesare Patrono e il generale Sergio Costa. Presenti all'incontro i comandanti provinciali e responsabili degli uffici della Campania del Corpo Forestale dello Stato, nonché il gruppo investigativo del Corpo. Nel corso dell'incontro l'accento è stato posto sulla difesa dell'ambiente e la salvaguardia del creato, temi particolarmente sentiti e cari alla Chiesa di Napoli, sempre in prima linea in questi anni difficili per l'ecosistema campano. Nel denunciare le terribili situazioni verificatesi in regione e nel proporre iniziative volte alla tutela dell'ambiente.